bene a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video e guardate qua indovinate cosa sono sono rane 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 tutte rane tanto che oggi non c'era la maestra c'era super te abbiamo fatto un cacchio allora io mio compagno mi ha fatto questo poi ce ne hanno regalate altre poi noi abbiamo fatto tutte queste quelle e loro ci hanno regalato questo comunque ragazzi questo qua è così no io volevo fare vedere queste cose e prima le avevo messi tutti comunque raga noi potremmo fare i video più belli perché non ho più la tele di merda capito che ho una tele più bella da 40 pollici della kai invece quando la era 30 tanto così arrivava qua vedi la mia mano tanto così era tanto così non di più veramente tanto così tanto così tanto così di tele è questa capito capito guarda dove ho messo la play quindi adesso noi io vi saluto e se vi faccio il video lasciate un commento mi piace e comunque ricordatevi che io basta che mi scrivete nei commenti basta che non scrive non mi scrivete mai commenti basta che mi scrivete Brian dai perché non fai video di gta e ci fai vedere i tutorial come fare le mani aerei quelle cose io ve le faccio vedere però se non vi scrivete nei commenti è inutile vabbè ragazzi noi ci vediamo al prossimo video se mi è piaciuto il video lasciate un commento mi piace ciao